Torna il presepe vivente a Donnici, frazione alle porte di Cosenza, un evento consolidato nel tempo e che vede la partecipazione di tutta la comunità, impegnata nel riprodurre una piccola betlemme ricostruita nello storico borgo. Un momento magico che prevede una lunga ed intensa preparazione, che ha visto la sua prima rappresentazione proprio nel giorno di Santo Stefano. Il fornaio, il pescivendole e il fabbro sono solo alcuni dei figuranti impegnati nell'interpretare i ruoli assegnati. Le vecchie case e i magazzini dismessi, un tempo utilizzati realmente da falegnami o calzolai, sono la scenografia naturale delle rappresentazioni che conducono visitatori e curiosi sino alla natività. La replica è il 6 gennaio, quando arriveranno i Re Maggi.